Grazie a tutti. Beh... Io l'ho fatto. Ed è stato... Incredibile! Gli Avengers sono come li immaginavo. Ciao San Francisco! Thor, Tony, controllate. Subito. Ammi dietro! Stavi aspettando? Ah, sì, ovviamente. Volevo recuperarsi. Wow! Qua è sì che si fa molto più interessante. Dobbiamo darci una mossa. Io sono da lì. Thor, prova ad aprire una strada sul ponte. Ok. Via, via, via! Ci sono almeno due nostri esposini armati. Ci servono rinforzi! Voi non siete degni. Tor, grazie per l'aiuto. Abbiamo dei civili bloccati dietro le barricate. Ho capito. State dietro di me. Allora ci penso io. Siamo noi, il Vittorio! Thor! Salveci! Sarà divertente. Thor, con chi abbiamo a che fare? Non si sono presentati. Aspetta, quelle armi appartengono allo shield. Thor! Thor, grazie! State giù, rinforzi in arrivo. Ehi, ehi! Il Vittorio è buono! Ti ho detto che potessi prenderti tutto il divertimento. Devo ammetterlo. Quello è stato notevole. Preso. Oh, spavaldo! Mi piace. Arrivano! Degli scudi. Pizzarro. 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 Non è finita, stop! Ehi, tornate indietro! Ho appena ricevuto conferma. Stamattina hanno rubato un convoglio shield. È uno di quei britti in mazzotini di fiori che non leggo mai? E dai, Tony, sono importanti. Ok, come vuoi. Eh sì, forse! E' altro che Furi abbia tenuto la mia tecnologia migliore su te insieme. Tuoi razzi finiranno per destabilizzare il ponte. Sì, lo so. Io costruitei io. Cap, dovremmo mettere in sicurezza il cristallo per rigeno, se dovessero condirlo. Sono già all'opera. Dottor Tarton sta scendendo nella stanza del re. Avenger, il convoglio trasporta prototipi shield segreti. Furi sta cercando l'elenco di carico completo. Hill! Come stai, fuocato? Dì a Furi che adoro farmi sparare addosso con le mie stesse armi. Vi terremo aggiornati e Gus sta bene. Ah, io non lo sapevo che stessi ancora ascoltando. Mi aspettavo che questi idioti si fossero andati alla fuga ormai. Ho l'impressione che non abbiamo ancora visto più. Sta succedendo qualcos'altro. Richiesta dalla brillante idea di dotare i canyon shield antitorrente. Tony! Ah, giusto. Sì, via. Che succede, ragazzo, Tony? Oh, niente. È tutto perfetto. Spero solo che non abbiano... Niente, sto sento. Hanno dei carri pulso. Cap, la nave non è pronta per volare. Perché si muove? Qualcuno ha avviato i protocolli di sicurezza. L'autopilota della Chimera è inserito. Servono rinforzi. Rientriamo. Negativo. Proteggete il ponte. Quelle armi non devono entrare in città. Ricevuto. Tocca a te, Bruce. Ciao, ciao. Grazie! 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 Dov'è Inspezione Verde? Lo vedo! Hulk, scendo con il Quintus per atterrare! Hulk is back! Oh, scat! Brandy! Oh! Due invenzioni sono pericolose, Stark! Ehi! Quelle armi erano per i buoni! Pensi che si tratti di un gioco? Non è il momento! Concentratevi, ok? Cap, cosa succede lassù? Non lo so, Nat! Sui monitor sono strane! Pare che una fonte di calore ci attivi! Nat distruggerà la città! Ripeti Cap, non riesco a sentire! Nat, mi ricevi! Attenzione! «La Chimera è sotto attacco! Evacuati civili! Granata!» Dave, mi ricevi? Neff! Neff! Tanto ci sei? Siamo isolati! Kazan, abbiamo un problema! Lo so, Doc. Vogliono rubare la chimera. Non quello! Non ho mai visto rilevazioni simili. Arrivo il primo possibile. Ciao! D'Arton, aggiornami! Quel reattore non si stabilizzerà! La struttura molecolare del Terrigen si sta scopponendo in un gas! Qualche cosa là sotto sta inviando energia al reattore! Ed è straordinario! Doc, ti richiamo! La nave non resisterà ancora a lungo! Ci sto provando! D'Arton! D'Arton! Avengers, mi sentite? Che sta succedendo da fuori? Avengers, rapporto! Qualcuno in vita? Il pastore. Avengers, se mi sentite, il convoglio trasporta una bomba a distruzione sonica altamente letale. Il piano dei nemici è di farla esplodere in città. Precipitiamo. Ve lo ripeto, abbiamo una bomba sonica. Andate a recuperarla subito. Mamma! Bob, dove sei finita? Bomba sonica! Mi prendi in giro? Pensavo che le avessero invietate. Diamo un'occhiata, va bene? Quella si chiama entrata. Taskmaster. Taskmaster. Prendiamo il detonatore. Se esplodesse, potrebbe sciogliere tutto nel razzo di 20 chilometri. Beh, cosa stiamo aspettando? Tommy, Thor, i cavi! Io penserò al pazzo con il detonatore. Ah, sì? Te ne faccio vedere uno io. Si chiama a darti una lezione. La base del ponte è sicura. Ragazzi, ricevo delle strade e rilevazioni sismiche. Roni, il cannon! Ricevuto! Hai fame? Questo lo prendo io. Ah! Sai, speravo di affrontarmi. Sopo! Io invece non ho mai ripensato a te! Fatti sotto! Don't cussi me! Ho rotto il tuo prezioso jetpack! Non importa. Ora ho questo. Maledizione! Dammelo! Stai prendendo i soliti appunti? Non ci sono. Oh, via. Più combatto, più apprendi, giusto? Chiamano riflessi fotografici. Si chiama zero originalità. No! No! Ponte a sgombro! I terremoti sono sempre più forti. L'intera costa occidentale... Stai ancora provando a mettere insieme i pezzi? Stavamo parlando. Senza il vostro cappa, voi avete un po' di te pezzi. Dammi il detonatore e forse non ti lancerò giù dal ponte. Il tuo palletto finisce qui. Deve essere frustrato, essere sempre un passo indietro. Il tuo obiettivo è la chimera, vero? Cosa vorresti farlo? Venderla al miglior operente? Sento qualcosa di molto più prestito. Che sarebbe? Non posso rovinarti la solita. Non posso rovinarti la solita. Stai ancora provando a mettere insieme i pezzi? Ti arrendi? Non ce ne parla! A cosa hanno portato le tue... ? Non ce ne parla! Non ce ne parla! Non sei il cervello dietro l'attacco E che questo puzza di diversivo Basta parlare Codarda Che c'è? Ti piacciono le sorprese? La prossima volta Prendi appunti nei... Avevi previsto anche questo, eh? Pensavi di aver vinto Ma di che dio? Il mondo si ricorderà di questo giorno Il giorno in cui i loro eroi fallirono Che sta succedendo qui? La città collassa Maledizione, una trappola Steve, puoi sentirmi? Vattene subito! Beta Al diavolo No Cinque anni fa presentarono una tecnologia pericolosa e non testata causando una quantità di danni mai visti prima Il nostro amato Captain America è stato ucciso durante il tentato furto di questa tecnologia Migliaia di persone innocenti sono morte e molte altre portano ancora le cicatrici di quello che oggi conosciamo come A-Day Centinaia di malati sono rimasti bloccati in strani bozzoli per poi emergerne con pericolosi poteri sovrannaturali Senza alcuna cura la malattia si è diffusa in tutto il paese e mentre sia lo shield che gli Avengers promettevano di sistemare la situazione la testimonianza del dottor Banner ha messo la parola fine a un'era Voi cosiddetti eroi avete trasformato San Francisco in una zona di quarantena piena di gas infetto Avete creato esseri malati e potenti che seminano il caos molti dormienti e non identificati Quindi le ripeto la domanda dottor Banner Gli Avengers sono un pericolo per la società? Sì Dopo essere stati dichiarati fuori legge il gruppo di eroi si sciolse In verità molti di loro se ne erano già andati Con la liquidazione della Stark Industries il dottor George Tarleton una vittima degli avvenimenti delle idee e fondatore delle avanzate idee meccaniche pensa che la scienza sia la soluzione ai problemi del paese Vorrei tanto sapere cosa è successo al capitano Rogers ma non ero vicino alla stanza del reattore Non ho risposte quindi ma posso promettervi questo Io userò questa mia seconda occasione per rendermi più sicuri Lion riuscirà a trovare una cura alla malattia degli inumani